E' una mini mappa cazzo Buongiorno E' che tu penso che l'hai detto E' un'improvviso E' un'improvviso No figli di p****** Mi hanno ucciso da sopra il tetto E ti posiamo figli di croia è qua eh l'agazzo sta fuori due due cosa fai? andiamo andiamo mi servono colpi di medio calibro mi sento che non pushano più in movimento le rimano sempre entrate uguali nei pizzi però eh cosa? nemico in arrivo nell'area buipaggiamento oscubb'Moletto ragazzi venite? sì vado per piacere 2 2 2 2 2 a terra ok ti mangiato un altro oh c'è il lancio mi ha beccato quello che è scappato di qua si è morto è morto ok la vita al lancio ben fatto soldato nemico in arrivo il tuo team nella zona sicura no vabbè ragazzo stai trovando c'è quello è un po' eh ti fatti e vaffanculo mori a terra a terra a terra che cazzo è ce n'è un altro fatemi largo a terra a uno è che si chiama bionico hehehe oh fermate fermate no 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 Cazzo Ma un po' non c'è nè, dove cazzo sono? Eh ma stavano a sparare Vai croccati Ci sono io Copriteci, copriteci Sì, ce l'abbiamo sotto Sì, più di uno Guarda, guarda, guarda Gente qua sopra Quanti? Occhio, occhio Ma non è possibile No Eh, mi attaccano da dietro Sarei dalle scale Io ero, io ero Eh, mi stavano attaccano da dietro Eh, mi stavano attaccano da dietro Sarei dalle scale Io ero, io ero Abbandonati, cazzo Gli straffati tutti Buono ancora, che ne è? Occhio alle spalle Finestra di ritorno in chiusura Oh, che cazzo Ottima uccisione Marco, il resto della squadra Buona cazzo C'è, attirati sulla torre Oh, buona cazzo Oh, buona cazzo Non è niente, ma la dentro Non è niente, ma la dentro Non è niente, ragazzi Le armi di sto tonto Ti salvo io Traeger dentro la porta Eh, c'è una traeger che ti aspetto in giro, eh Eh, non è niente Non è niente Non è niente Ah, ne ho quattro, quanta palla Ma le aiuto, è meno, è impossibile Ma è niente possibile Vai Vago Come Mimmo ci sono armi per così non lo vedo C'è gente sotto di te Mimmo Che cazzo è? No ma tu sei che vuole Oh ma da che spari? Eh mi sono andato a fare due armi Eh lo piccione tesorda tesoro Ehm qua io ho provato a salvarte ma Erano un 3 Si è pieno Figlia di puttana Apri apri queste cazze Di rumbo dai dai Apri un cazzo di cazzo Dai io voglio Rianima rianima Sopra sopra Ce ne sarà un altro Ce ne sarà un altro Ce ne sarà un altro C'è un Sodio non ce l'ho Ehm No Tu rompu Tu sficci ce l'ha Rianima C'è un altro C'è un altro Alcuni membri del tuo team non sono nella zona sicura Ehm E' un altro C'è un altro C'è un altro Sì ma dove c'è un altro stabu? Ah si Bene Senta che basta Basta go go Bene cazzo di munizioni qui Ma la cosa si E' un altro Oh io sto dietro in Vyar Ma va a cazzo Ma va a cazzo Va a cazzo Ma voi No, non ce la mi metti c'è il bengala bella bengalone oh sopra eh sotto di me, sotto di me, sotto di me ho fatto tutti i tuoi compagni, coglione io ci manco la piazza bella la trovata buona volta ora il gas è sempre più piccino consiglio di puntare subito alla zona sicura, c'è molta strada da fare vabbè attività nemica adesso sei tra gli ultimi 5, ottimo lavoro vedete il safe ma cos'è quello? siamo troppo sparpagliati non lo sapevo, non lo sapevo non lo sapevo, non lo sapevo la barri ha lanciato e che parte ma lei sono sulla casa dove sono morto io dove sei tu la barri ha fatto un metro non lo sapevo che fai scambia niente pita 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 i star 21 numero 1 a per l'ultima occasione soldato uccidi o verrai ucciso dai io sono tu, io sono il compagno, bella bella bella, bravi bella, bravo Mimmo ottimo 3-2 3-2 no, eravate due Mimmo ero anch'io, ero anch'io ero in cima infatti stavo salendo lui grazie grazie usate questo tempo per allenarvi, presto entriremo in azione squadra che di nincenze cambia di via fine dell'addestramento, vediamo cosa avete imparato possibile ritorno sopravvivi per tenere la tua squadra in gioco venga venga, venga venga, venga 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 2-2 sta arrivando un deserro attenzione in alto al giallo, no? Ma che cazzo siete ragazzi? Ma che cazzo siete ragazzi? Sapete che siamo al fan? Dai ragazzi, ma siamo lontani C'è gente qua eh L'uno già... Ho provato la pizza Pescemboli Ho provato Pescemboli Oh no, pescemboli Stoicchurna CUNE Ma che cazzo siete ragazzi? Ma dove? Pescemboli 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 Ehi Davanti a me Davanti a me Davanti a me Figlio di puttana Pescemboli 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 Andiamo 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 Pescemboli 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 Dove a terra? Ottimo! Prima! Dove a terra? No, no, no! Oh, sono per tetto, sono per tetto la benzina, sono per tetto la benzina! Vai, troppo! Ritro per finire! Mi raccomando, ho marcato gli altri operatori di quella squadra! Versaglio a terra! Marco i tuoi compagni! Eh, qua, qua, qua! Ecco, con questo ti ritrendete! Bravissimo! Il truppo era a terra! Il truppo era a terra! Arrivano il suo team! Siamo! Ottima uccisione! Marco il resto della squadra, la mattacattica! Buona caccia! Dove? Ce le dietete, ce le dietete! Oh! Ok, a terra! Uccisione con marco! Vediamo dove sono gli altri! Sta arrivando un nemico! Ma lo dò si può prendere? Se dietro l'ora che ho fatto queste armi! Un nemico! Oh! Si è giù! Uno, ci sono le altre due, non c'è aspetta! Poi, si è giù! Chi 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 è giù? Chi è giù! Chi è giù! una bomba mi fai pure io dai ma mi sono a tutta le palle vieni in posizione che arriva aspetta la mea sto cagliando niente c'è nessuno da sopra ok fatto pure quale dove eravamo prima noi oh dietro dietro mi mirano cecchino cecchino da me a ping da me a ping da me a ping ah ok 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 togli ping togli ping oh ancora 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 sotto ah vabbè la c'è trappato ehi la testa non la esce per un pezzo tranquillo è sotto qua ragazzi ragazzi qua sotto ma nemmeno hai amici nei paraggi non mi ch Dennis tu non mi chè click sta vivendo d cave aiutami a Baffanculo Ma c'è da dove colpi c'è questo coglione che ho fatto? Oh sopra 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 Arriva arriva I soliti morti di fame Dove è sto coglione? C'è uno Dove l'ho visto? Qua qua tranquillo Eccolo eccolo Ma me li bombardi Cazzo di merda che sto facendo ti spacco il culo Dove è sto bombare? Eccolo 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 Vov'è Ma c'è sbuglio Ma c'è sbuglio? Come c'è sbuglio? Come c'è da dove ci dice uno? E abbiamo soldi Ora è la Attività nemica Ok l'ho fatto Mi è rimasto uno Dove? Grazie Eccolo 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 Mi è rimasto C'è Eccolo Eccolo Uff Quasi Eccolo Eccolo a scuola per questo buono semila di danno la gente con 2 mila vince io mi devo ammazzare niente